È un'ottima soddisfazione essere qua e avere la possibilità di giocare un quarto di finale con l'esercizio. Direi che questo è, per quanto riguarda la nostra stagione, fino ad oggi il momento più alto. Speriamo di continuare. Certo, senza Nengolano è un po' più difficile. Giochiamo l'undici contro l'unici. No, grazie.